La solita telefonata da parte del finto nipote, la truffa è consumata, la vittima è una donna di Avellino che ha consegnato ben 2600 euro in contanti ad un sedicente avvocato che si è presentato a casa della 75enne e si è fatto consegnare i soldi in contanti. La consistente somma, secondo la telefonata, sarebbe servita al nipote della donna per far fronte a spese legali. Come sempre accade, in queste occasioni la donna è stata assalita dal dubbio solo dopo aver consegnato i soldi al truffatore, quando il finto avvocato è andato via, la donna ha telefonato al nipote ed ha scoperto di essere stata appena truffata. A questo punto l'anziana non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri e denunciare l'accaduto. I militari del comando di Avellino hanno avviato immediatamente le indagini. L'orribile fenomeno delle truffie e danni di anziani conferma ancora una volta che queste persone sono troppo spesso oggetto di attenzioni particolari da parte di ladri e truffatori che approfittandosi della loro solitudine con abili inganni e tranelli si impossessano di denari e oggetti preziosi. Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Non bisogna fidarsi di chi telefona o peggio ancora si presenta a casa chiedendo soldi o preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, spese, debiti o acquisti di merce con la scusa che chi si ha di fronte è stato mandato dal figlio o dal nipote. La cosa migliore da fare è abbassare il telefono, chiudere la porta di casa e chiamare immediatamente il 112 o qualche familiare.